Appassionati bianconeri si rinnova l'appuntamento con la rassegna stampa sportiva di Udinese Channel con uno sguardo ai principali quotidiani nazionali di un riferimento ai giornali locali. Per quanto riguarda il nazionale si parla molto della possibile cessione del Milan alla cordata cinese per quanto riguarda Silvio Berlusconi. Si parla anche di quello che è stato il posticipo di ieri sera con la larga vittoria dell'Empoli sul Napoli e si parla della Juventus che potrebbe festeggiare sì lo scudetto ma senza la curva a sud cuore pulsante della tifoseria bianconera. Per quanto riguarda invece i giornali locali spazio all'Udinese in vista del match contro il Verona un derby così ribatezzato quello contro l'Ellas Verona e soprattutto il confronto fra due grandissimi bomber Luca Toni e Totò Di Natale sull'altro versante. Partiamo subito con la Gazzetta dello Sport per vedere la prima pagina dedicata come dicevamo a quella che è la melina di Silvio con il temporeggiamento di Silvio Berlusconi. Sembrava imminente l'annuncio della cessione ma Berlusconi ha preso tempo e il summit decisivo è saltato. Mister B resta a Milano in attesa di una risposta alla proposta di 500 milioni per il 60%. Tutto l'inviato ad oggi o si riapre oppure si rompe la trattativa. Ed eccolo qui il possibile successore di Berlusconi, il broker thailandese Mister B Touchball sotto il presidente invece del Milan Silvio Berlusconi che riflette e riflette anche sul discorso relativo a Filippo Inzaghi per ora salvo tra parentesi ma basta figuracce. Quindi la sensazione è che Filippo Inzaghi possa concludere almeno la stagione sulla panchina del Milan anche perché ormai la stagione è rovinata quindi anche un nuovo allenatore, un traghettatore non è che potrebbe fare meglio rispetto a Super Pippo poi si valuterà il prossimo anno. Andiamo anche di spalla sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport con le interviste. Gasp e il Genoa, bel giocatolo, non si tocca, stagione stupenda. All'Inter non mi hanno dato tempo per lavorare con Giappione Casperini che evidentemente ha trovato la sua consacrazione proprio con il Genoa. Suarez fa 80, il mio rede, scelgo Pirlo. Mi volle Elenio Herrera e Moratti versò 300 milioni al Barça. Un'enormità, eccolo qui, un simbolo del calcio mondiale che compie 80 anni, Luisito Suarez. In taglio alto, come dicevamo, una festa scudetto per la Juventus ma una festa scudetto rovinata senza la curva sud. Il club è ingiusto, il giudice chiude il settore dello stadio per due turni. Multato il Torino, la società bianconera ha una decisione con enormi incongruenze. Per quanto riguarda invece il Napoli, come dicevamo ieri sera, poker Empoli per il Napoli un naufragio. I toscani vincono 4-2 con 3 autoreti su 6 gol. Per Benitez, Champions più lontana, meno 6 dalla Lazio, meno 5 dalla Roma. In taglio basso andiamo a leggere le altre notizie, con purtroppo una brutta notizia che riguarda il calcio. Mertens non ce l'ha fatta per il difensore belga, fatale l'infarto in campo. Il motociclismo tra Rossi e Marquez, la ruggine resta e Dovizioso spera. Rebellina assolto due volte, minaccia terrorismo. GP Francoforte annullato. Andiamo a vedere anche il rompipallone di Gianegnocchi a chi è dedicato quest'oggi. Inzaghi è ancora in sella ma a fatica. Al momento di votargli la fiducia, Galliani ha abbandonato l'aula. Quindi anche Gianegnocchi si dedica con il suo sarcasmo a quella che è la situazione del Milan. Andiamo a analizzare nel dettaglio, grazie alle pagine interne della Gazzetta dello Sport. Con questa sorta di partita a scacchi, salta l'incontro con Mr. B. Berlusconi prende tempo. In mattinata l'annuncio della cessione del Milan al gruppo tailandese sembrava imminente, ma da Arcore non è mai arrivato l'ok per il Summit, che era previsto in serata. Oggi si riparte oppure si rompe. Quindi una sorta di tira e molla. Evidentemente la sensazione è che Berlusconi non sia sicuro delle garanzie che sta portando il broker tailandese qui in Italia. Ed ecco perché comunque c'è questo tira e molla. Nel frattempo questo uomo d'affari che vediamo anche qui in foto passa la serata in albergo, cena con un amico e i selfie su internet. È un personaggio un po' particolare, questo Mr. B non lo conosciamo naturalmente, anche perché non è stato intervistato, però da quello che stiamo vedendo è un personaggio a cui piacciono i selfie, piace il mondo dei social, piace un po' la fama, essere visto, piace fare giri per Milano. Quindi forse anche questa troppa visibilità sta mettendo un po' in discussione il tutto e sta facendo riflettere Silvio Berlusconi. Di solito le trattative, quelle più importanti, si fanno comunque quasi di nascosto o senza il rumor dei riflettori. Qui invece Mr. B ogni giorno esce allo scoperto, almeno con situazioni tipo selfie piuttosto che fotografie o piuttosto semplici giri a Milano con borse della spesa dopo aver fatto praticamente il tour nei principali negozi di moda milanese. Quindi questo fa un po' riflettere Silvio Berlusconi. Lo vediamo pensieroso proprio in questa immagine. Pensieroso anche per quanto riguarda il discorso tecnico. L'allenatore è stato salvato ancora. Filippo Inzaghi, Pippo è in gioco, che rimonta dal quasi addio ai giocatori alla conferma per Filippo Inzaghi. Inzaghi era stato chiaro con i suoi dovete finire bene con o senza di me. Brocchi era pronto, poi la decisione del club che ritiene più colpevoli i giocatori. Questo per quanto riguarda Filippo Inzaghi. Sempre all'interno della gazzetta dello sport, Silvio, giusto vendere, Inzaghi aveva bisogno della gavetta. Da Galli fino a Savicevic il parere di quattro ex del Milan tra Mr. B, la cessione del club e il destino di Pippo. Sono stati l'ex portiere Giovanni Galli, l'ex difensore Pietro Viercovod, l'ex attaccante Aldo Serena e poi il fantasista Dejan Savicevic che analizza un po' la situazione del Milan. Quello che potrebbe essere il nuovo Milan sia per quanto riguarda l'assetto societario sia per quanto riguarda il discorso prettamente tecnico. Allora c'è un'interessante analisi della gazzetta dello sport su quella che è la crisi del Milan. In crisi è svalutato il Milan che fine da Circe a Decidio, la stagione rossonera è un incubo, ora tutti sono sotto esame. Quindi questo per quanto riguarda la situazione relativa al Milan tra presente e soprattutto futuro. La Juventus, la Juve a due facce, turnover scudetto e rombo con il Real. Pogba in gruppo mercoledì, il ritorno di Coppa non è impossibile. A fine maggio Allegri rinnova fino al 2017. Però c'è questa grana della Sud che è chiusa, ieri proprio notizia di ieri che è arrivata praticamente dalla chiusura della curva Sud per due turni e il club attacca il giudice Tosel. Enormi congruenze nella decisione pronto in ricorso, Toro 50.000 euro di multa alla Juventus che potrebbe festeggiare lo scudetto ma senza il cuore pulsante della sua tifoseria. E a proposito di arbitri, parla anche, o meglio, Fischia Ferrero, il vulcanico presidente della Samp. Arbitri più uniformità, dice Ferrero. Il presidente della Samp con il Verona, due o tre episodi, dubbi fate voi, ma l'Europa non sfumerà solo lo sfumante, che spuma, dice Ferrero, sempre con la sua consueta ironia, però comunque non l'ha mandata a dire alla classe arbitrale il presidente della Samp. Sempre all'interno della gazzetta dello sport, come dicevamo, ieri sera si è chiuso il quadro relativo a questo spezzatino infrasettimanale con una larga vittoria molto decisiva, importante, efficace dell'Empoli. Il solito Napoli si butta via, dopo tre vittorie consecutive è preso a pallate dall'Empoli, 4-2 con due autoreti. La Champions sfugge, gli resta l'Europa League, Saponara strepitoso, un gol e mezzo. E quindi l'Empoli riesce a vincere con il Napoli, una grande prestazione dell'undici di Sarri, anche con alcuni giocatori, come ad esempio Valdifiori, in chiara orbita napoletana, che quindi il Napoli ha avuto modo di osservare proprio da vicino. In prospettiva della prossima sfida, il derby del cuore, Reia, questa Lazio è anche un po' mia, il tecnico dell'Atalanta, cerca la salvezza contro la sua ex squadra Pioli da Champions, ma non faremo sconti con Reia, tecnico Friulano, che ora con l'Atalanta affronterà la Lazio. La rinuncia invece sull'altro versante di Francesco Totti, Re Totti, sì, accetto la panchina col capitano in campo, la Roma nel ritorno ha una media punti più bassa, ora conta arrivare in Champions, ma serve rispetto. Questo per quanto riguarda la Roma. Come abbiamo letto in prima pagina, un'intervista interessante a Giampiero Gasperini, che è un po' il cuore del Genoa, e soprattutto del tecnico che ha trovato praticamente la sua consagrazione proprio nel Genoa, dopo una parentesi da dimenticare, con l'Inter, Gasperini, preziosi, vedi, vendi tanti giocattoli, ma lasciami stare questo. Il monito è abbastanza netto, quello di Gasperini nei confronti del Presidente, non rompere questo giocattolo, perché comunque è un giocattolo che è stato costruito con tantissimi campioni, tra questi Iago Falke, mi paragona agli spagnoli, ma i tecnici italiani sono i più bravi, soprattutto Diego Perotti, un giocatore che avrà mercato il suo infortunio per la nostra squadra, una perdita grave, Neanga, che è stato chiaramente rivitalizzato dalla cura Gasperini al Genoa, contro il Milan, come altri compagni, ha dato qualità, e poi qui parla il Presidente, con lui al Genoa sono passati tanti giocatori da Champions. Quindi questa è un'intervista molto interessante, che vi invito a leggere sulla Gazzetta dello Sport, a Giampiero Gasperini, il tecnico di un Genoa proiettato, addirittura in un discorso europeo. Per quanto riguarda invece un'altra intervista molto bella, perché comunque realizzata con uno dei grandi del calcio europeo e mondiale, parliamo di Luisito Suarez, che compie 80 anni, Di Stefano meglio di Pelé e Messi, Pirlo il mio erede. Queste le parole di Di Stefano, che poi vediamo anche in foto storiche, con Mario Corso, con la Coppa e con il Presidente Moratti, e poi con il pallone d'oro, vinto nel 60, con il Barça. Eccolo qui, Luisito Suarez, che compie 80 anni, anche qui rilascia una bella intervista interessante sulla Gazzetta dello Sport. Ci proiettiamo a quelle che sono le prossime sfide, e partiamo proprio da quella che ci interessa più da vicino, la sfida tra Lellas Verona, Di Lucatoni e Ludinese, per andare a vedere quelle che possono essere le possibili formazioni. Anche perché vi ricordo che domani non usciranno i giornali, torneranno poi domenica i quotidiani sportivi nazionali e locali, e quindi il gioco delle possibili formazioni viene fatto oggi, anche se, ricordiamo, ci saranno altre due sedute per l'Udinese per provare la possibile formazione anti-Verona. Allora andiamo a vedere nel dettaglio le possibili scelte con Carnezi si importa. Piris, Bubnich, Danilo e Widmer in difesa, sceglie la Gazzetta dello Sport, almeno ad oggi. Guilherme, Pinzi e Allan a centrocampo con Conetero e Di Natale davanti. Vediamo anche la formazione del Verona con Benussi, uno degli ex in porta, Marquez, Marquez e Moras in difesa, Sala, Obadi, Tacidis, Greco e Pisano a centrocampo, e in attacco l'altro ex, Nico Lopez, affiancato da Luca Toni. Questa è la possibile formazione del Verona e quella dell'Udinese. È logico che saranno fondamentali le sedute di oggi, oggi l'Udinese si allena nel pomeriggio, domani la rifinitura, quindi ci saranno altri due giorni per cercare di recuperare alcuni elementi. Di sicuro mancheranno gli squalificati, Domizzi e Badu per l'Udinese, e probabilmente anche Ertò e Molla a Vaghe, quindi in qualche assenza c'è pesante nella formazione bianconera. L'ultima notizia che andiamo a leggere, purtroppo è una notizia non positiva che abbiamo visto anche in prima pagina, e riguarda Mertens, che non ce l'ha fatta, fatale l'infarto in campo, il difensore del Lokeren, 24 anni, era stato ricoverato lunedì, e ci sono praticamente su Twitter i messaggi di Cordoglio, di Nainggolan e Lukaku. E qui la gazzetta va a ripercorrere un po' quelle che sono state le tragedie in campo, da Foè a Puerta, dagli Arche per Mario Morosini. Una tragedia che conosciamo molto molto bene, proprio di prima persona, e quindi questa è la situazione per quanto concerne il giocatore belga. Lasciamo la gazzetta dello sport, andiamo a fare un rapido passaggio sulle prime pagine degli altri quotidiani sportivi nazionali, partendo dal Corriere dello Sport, con la prima pagina, prima pagina dedicata alla Juventus, per i tifosi, la Juve si ribella per gli incidenti nel derby, due gare con la curva chiusa, il club contro il giudice, condanniamo ogni violenza, ma in questa decisione ci sono enormi incongruenze, quindi questo per quanto riguarda la situazione, parte il ricorso per riaprire il settore con Cagliari e Napoli. Per quanto riguarda poi le altre notizie, sempre in prima pagina sul Corriere dello Sport, in taglio alto Milan, Pippo resta, Mister B aspetta, e il Napoli va a picco duro 2 a 4 ad Empoli. Ci sono le notizie poi di motociclismo, Valentino vinco il mondiale e insisto, e poi in taglio basso, anche la Roma cerca di, su quella che è stata la falsa riga della Juventus e dell'Udinese, scoprite con noi lo stadio della Roma, ecco Tor di Valle, dove nascerà l'impianto Capitolino, quindi questo per quanto riguarda lo stadio della Roma. Lasciamo Tutto Sport, passiamo a Tutto Sport, la prima pagina dedicata all'intervista a Fabio Capello, Capello esclusivo con Pirlo è finale, quindi il CT della Russia anticipa la sfida tra Juventus, Juve e Real, è una balla colossale che il sorteggio sia favorevole, la difesa di Ancelotti è migliore di quella di Bayern e Barcellona, ma con Andrea sognare si può, sarà decisivo sfruttare la prima partita allo stadion. Di spalla è Napoli umiliato dal Fanta Empoli, Benitez 4 sberle, Mancini striglia l'Inter che vince milioni in ballo, e poi Manchester flop, Guardiola al City, United c'è Giggs. In taglio alto, come dicevamo anche in precedenza, anche qui viene riportata la notizia relativa al Milan, dubbi su B, Inzaghi congelato, e poi il Torino, Toro, è ora di fare una maxi offerta. Lasciamo così anche tutto sport, andiamo a fare dei passaggi sui quotidiani locali con i riferimenti allo sport. A partire dal messaggero Veneto, che celebra in una pagina intera praticamente Giampiero Pinzi. Pinzi, questa è la squadra che mi piace, queste le parole di Giampiero Pinzi, il mediano, cuore pulsante dello spogliatoio, esalta lo spirito visto con l'Inter, e invita i compagni a non mollare. Qui viene analizzata un po' tutta la stagione di Giampiero Pinzi, e ci sono anche dei trafiletti riguardanti la decisione di Totò. No, noi compagni siamo tutti sulle spine, ma è giusto che decida da solo. Non me lo vedo proprio in un altro club italiano. Quindi questo per quanto riguarda il futuro di Totò di Natale. La carica del pubblico, non ricordo un Friuli ribollente come con l'Inter, ci ha gasati al massimo, e l'applauso finale è stato emozionante. E poi, la violenza negli stadi, dice Giampiero Pinzi, quelli che distruggono i pullman e lanciano bombe, non sono gli ultra che conosco io, ma dei delinquenti. Quindi queste sono un po' le parole di Giampiero Pinzi, che viene analizzato, grazie alle sue parole sul messaggero Veneto, uno degli elementi portanti di questa Udinese, fondamentale proprio il suo apporto. Sempre per quanto riguarda Giampiero Pinzi, vengono ripilogati insomma quelle che sono state le sue pagine più importanti, con l'Udinese al Verona, il primo gol in Serie A con questo simpatico trenino, per quanto riguarda Pinzi, e poi i numeri in bianco-nero con 19 gol, 14 assist, 120 ammunizioni e 10 espulsioni. Questa foto molto bella con la Champions ottenuta, con l'allora capitano Valerio Bertotto, con Giampiero Pinzi, che poi di fatto è diventato una colonna portante del club friulano. Per quanto riguarda il possibile assetto anti-Verona, avanti con due punte, Theroux o Perissa al fianco di Di Natale. Il capitano sta bene, il ballottaggio è tra il francese e il croato, Geico messo fuori causa da un'infiammazione al piede. Nella difesa 4, dice il messaggero, provato Bubnich al fianco di Danilo, con Piris sulla sinistra. Rientrato a Udine dopo il prestito al Ciappeccio Ense, il brasiliano Neuton, che abbiamo visto proprio in questi giorni. Gli avversari, Mandorrini sta ripensando al tridente, Tony sicuro del posto sulle fasce Gomez e l'ex Nico Lopez. A proposito di veterani dell'Udinese, poi abbiamo celebrato prima Giampiero Pinzi, Domizzi 200 presenze in bianco-nero tra campionato Coppa ed Europa. E poi la trasferta, il club di Savorniano, domenica a Verona. Quindi questa la trasferta, saranno circa 5 le corriere per quanto riguarda gli ultra bianconeri, mentre l'unico club dell'AUC sarà quello di Savorniano, presente nella trasferta di Verona. sempre all'interno del messaggero, c'è una pagina dedicata a un evento storico, in Milan cadde al Moretti e Udine sognò lo scudetto. Parliamo di 60 anni fa, l'anniversario della madre di tutte le partite, con i bianconeri a 4 gare dalla fine, che arrivarono a meno da 2, dai rossoneri, poi campioni. Una sfida che abbiamo analizzato anche noi, in passato, nelle nostre rubriche storiche, c'era anche Menegotti, e parlano i figli di Menegotti, papà non parlava di quel suo gol. C'era anche Mr. Massimo Giacomini, nostro opinionista. Io c'ero, fu un trionfo meritato, i ricordi dell'ex tecnico, sfida epica, due anni dopo mi ritrovai a giocare con quei campioni, per quel gruppo non fu un'impresa, ma qualcosa di normale. L'atmosfera in città, allo stadio, ci si andava in bicicletta, c'era una grande passione. Quindi queste le parole di Giacomini, chi ricorda quella partita, e poi qui c'è anche il giornale di allora, l'udinese è davvero la migliore, con la meritata vittoria sul Milan, colta in condizioni di inferiorità numerica, alla presenza di una moltitudine, e si gioca sulla parola udine, molto bello questo titolo, di sportivi. Le zebrette pongono la loro candidatura allo scudetto. Questa quindi era la partita, praticamente viene definita un po' la madre di tutte le partite, e c'è il 60 anni da questa sfida. Sempre per quanto riguarda il messaggero vereto, andiamo a chiudere con il basket, la GSA, che si giocherà domenica la bella, contro Bergamo, GSA squadra vera, nel colpo a Bergamo, parola di Corpaci, il coach domenica decideranno, approccio alla gara e difesa, pazienza e non subire più di 80 punti, per fare nostra la bella. Quindi questo per quanto riguarda la GSA di Udine, gara che tra l'altro vi trasmetteremo proprio domenica. Andiamo sul gazzettino per chiudere la nostra rassegna stampa, per andare a leggere, innanzitutto, il discorso relativo all'udinese, poi approfondiremo anche velocemente il discorso relativo al Pordenone, il Lega Pro, di Natale. Adesso punta il monumento del Piero, ormai Baggio è stato raggiunto, e allora ci sono altri grandissimi da raggiungere per Totò di Natale. L'attaccante è il miglior realizzatore di sempre nella storia della società bianconera ed è un gol dall'ex Juventino. Si parla di realizzazioni, tutte con la stessa maglia. A breve, tra l'altro, ci sarà l'incontro con Pozzo per il futuro e viene rimarcata praticamente questa caratteristica da Guido Gomirato. Parliamo di marcatori tutti con la stessa maglia. Francesco Totti, 241 gol con la Roma. Gunnar Nordal, 210 con il Milan. Meazza, 197 con l'Inter. Del Piero, 188 con la Juventus. E Di Natale, che è a 187 con il bianconero friulano, quello dell'Udinese, perché comunque gran parte, anzi, il 90% della sua carriera di Natale l'ha fatto appunto con l'Udinese, quindi i gol importanti sono arrivati proprio con l'Udinese anche per quanto riguarda proprio i suoi record. Il parere, Adriano Fedele, ex di entrambe le squadre, a Verona i giocatori devono crederci. Queste le parole di Adriano Fedele in vista del match di domenica contro il Verona. Le sviste arbitrali costano 4 punti e qui vengono analizzate anche le cifre, vengono analizzate le cifre di sviste arbitrali e di punti che poteva avere l'Udinese e che invece non ha appunto grazie a quelli che sono stati disguidi dai direttori di gara. Dicevamo del Pordenone analizzato nell'edizione di Pordenone del Gazzettino perché c'è una sfida molto interessante anche a livello geografico perché si affronta il Real Vicenza servono punti a Vicenza i Ramarri oggi al Menti contro un Real che non ha nulla da chiedere alla classifica e quindi il Pordenone che sta lottando per la salvezza ricordiamo il Pordenone allenato da Fabio Rossitto ultime due gare per giocare ai play-out a fine maggio McCann potrebbe riprendere la fascia di Capitano quindi il Pordenone che lotta appunto per restare in Lega Pro e va a giocare questa sorta di derby contro il Real Vicenza proprio allo stadio Menti chiudiamo qui la nostra rassegna stampa vi ricordo questa sera l'appuntamento con il TG Sportivo alle 19 e 20 domani non ci saranno i quotidiani ma ci sarà naturalmente la conferenza stampa di Andrea Stramaccioni che seguiremo in diretta la rassegna stampa tornerà domenica sempre alle ore 9 e 30 grazie per averci fatto compagnia e buon proseguimento su Udinese Channel Grazie per avermi